Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Badia e BV1 Variante in direzione di Bologna. Regolare il traffico altrove. Per la canteristica sulla SR222 Chiantigiana a Ponti a Ema segnaliamo questa notte, domani notte, l'orario 21.06 in corrispondenza del sottovia autostradale senso unico alternato regolato da Movieri per lavori per la terza corsia della 1. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Ultima pagina per il traffico ferroviario. Dalle 21.30 di stasera, venerdì 19 ottobre, fino alle 17.30 di domenica 21, la circolazione sulla Siena Chiusi sarà interrotta per lavori di sostituzione di una travata metallica. Collegamenti saranno garantiti da un servizio bus sostitutivo che transiterà dalle stazioni di Asciano, Monte Oliveto Maggiore, Asciano, Sinalunga e Torrita. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!